1, 2, 3 Viva la basket camp e la loda 3 Viva la basket camp e la loda 3 Grazie Viva la basket camp e la loda 3 Nicola Caroli, 16 anni, 70 kg circa Il soprannome è Nico È la prima volta che fai esperienze di loda Zen? Sì Sei curioso di vedere come te la cavi? Sì Ok, allora ti faccio il bocca al lupo E vediamo come va il pomo match Ok? Ciao Allora, Federico Ingrassi Ho 14 anni Peso circa 75 kg Il mio soprannome è Zambra È la prima volta che fai la loda Zen? No, l'ho provata l'anno scorso Ti è piaciuta? Sì, molto Sei contenta di fare il secondo torneo? Sì, sì Allora sei pronto per un combattimento? Sì Ok, allora in bocca al lupo e cominciai a trattare Ciao Zambra Arbitro in Aura Nowback Vai 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 Tira lo giù Io lo succhiamo Sì 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 Tats zen Tu sei già un'tats zen Laura? Sì e hanno tanta ok adesso c'è la bella nico ha vinto zambra bravi ragazzi siete stati proprio bravi tutti e due bravi bravo ok nome e cognome anni è la prima volta che fai la lotta zen sei curiosa di vedere che esperienza sia ok allora ti auguro bocca al lupo e vediamo come va la tua prima esperienza ciao ok sono curiosa di vedere come sarà l'esperienza da qua ok allora si può dare combattimento con la tua vita ok va bene un bocca al lupo grazie grazie prendila per le gambe e buttala in terra è rite, è rite rire le gambe e le tiri per terra vai la fatte le finte tirala giù, mollala mollala tira, tira forte perché non si fa male tira che cade, brava, tira che cade da che tira lei andrà? che la domini così mollala, mollala non ce la possono fare alla gamba, alla gamba gamba ragazza c'è tua gamba, ragazza c'è tua gamba ragazza c'è tua gamba andi alla gamba dalla gamba dai c'è tua gamba tira tira prendila non le fai a me tira butala prendila ma devi buttare a starla ma non le fai a me ma non le fai a me ma non le fai a me con un po' di forza la forza bruta ragazze dai che ribè basta Caterina basta ma non le fai a me gamba ora ragazze ragazze non ci sono tre mani allora la guardia di più le gambe e tira le gambe verso di te con forza con forza verso di te con forza corza 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 ecco 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 alleluia ecco la famiglia esiste non mi sta acordando ecco 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 dopo mille anni shhhh dai dai ma poi tu che ti piace per il primo anno la pesce no qua è la rinuncita qua è la rinuncita qua è la rinuncita si ma che è la rinuncita se ti piace ma dice il match vabbè è quello che uno deve stare molto attento dai l'antra 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 non mi sta 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 che adesso c'è la bella no si siete state brave finora eh proprio brave brave pensavo a quello che dovevo fare pensai si si Grazie a tutti. Siete anni, peso 23 kg e abito a Ravenna. Il tuo soprannome? Andre. Andre, ok. Ascolta Andre, è la prima volta che fai la lotta a Zen? Sì. Sei contento di farla? Sì. Pensi che potrai vincere contro il tuo avversario? Credo di sì. Bene, io ti auguro di fare soprattutto un combattimento divertente. Ok. In bocca al lupo. Come ti chiami? Filippo. Cognome? Moschini. Anni? Sei. Peso? 20. Soprannome? Pippo. Pippo. Abito a Ravenna? Abito a Ravenna? Sì. È la prima volta che fai la lotta a Zen? Sì. E ho la casa al mare. È la casa al mare? Sì. Posto? Anche a Ravenna. E anche a Ravenna. Ascolta, come credi che andrai con questa esperienza di lotta a Zen, in questo incontro? Bene. Bene? Sei pronto per il match? Ok. Allora in bocca al lupo e buon combattimento. La rendigliele. La rendigliele. La rendigliele. Sì. Rimonta. Rimonta. Arrivederci a sola. Arrivederci. Fine. Lontamente. Rimonta. 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 Rimonta la panna. Rimonta. Rimonta. Fuori. Af... Fuori. Af... Af... Adesso c'è la bella! Bravo! Bene! Ok! Grazie a tutti!